Ben trovati a tutti ad un nuovo appuntamento con l'informazione di BioBlu24, oggi edizione del 9 ottobre 2020. Parleremo di tante cose, tante notizie, reset economico mondiale, è possibile superare il capitalismo e cambiare sistema economico. Poi parleremo anche del passaggio della borsa italiana in mani franco-olandesi e del lockdown, perché tornano i lockdown localizzati. Il reset economico mondiale, questo slogan che circola ormai da mesi nel mondo, perché c'è la possibilità concreta che il capitalismo possa essere superato da un nuovo sistema economico. Nel 1992 Francis Fukuyama scriveva un libro dal titolo La fine della storia. In questo libro argomentava il fatto che il sistema liberale a base capitalista e di libero mercato rappresentava il momento apicale della storia, la fine della storia. Invece sembra non essere così, perché proprio in questi mesi si parla della possibilità che un nuovo sistema economico rimpiazzi quello esistente. Sentiamo il servizio di Michele Crudelini. È arrivato il momento di un grande reset del capitalismo globale. Con queste enigmatiche parole, Klaus Schwab, il fondatore del World Economic Forum, ha inaugurato la riunione virtuale di Davos, il GOTA dove si incontra l'establishment della finanza internazionale. Ma cosa intende dire Schwab con grande reset? Nel suo intervento si delinano i due assi su cui si baserebbe questo punto di non ritorno, deindustrializzazione e digitalizzazione. L'opera di propaganda di Greta Thunberg ha da tempo posto le basi per il primo asse, e cioè l'eliminazione dell'industria del carbone e del petrolio e la conseguente riconversione ecologica dell'intero sistema produttivo, per arrivare a quello che viene descritto come capitalismo sostenibile. Questo cambiamento dovrà essere supportato da un processo di digitalizzazione mondiale. Le nuove infrastrutture 5G serviranno proprio a questo, a facilitare la gestione di un enorme traffico di dati, che diventeranno il petrolio del XXI secolo. La maggior parte degli aspetti della vita quotidiana saranno controllati digitalmente, compresi tutti i pagamenti. Il sistema economico e finanziario verrà quindi trasferito nell'Etere, e sarà gestito con un sistema ibrido composto dalle banche centrali e da quelle aziende private in grado di coniare le proprie criptomonete, come il progetto Libra annunciato da Mark Zuckerberg. Appare evidente che da questo scenario emerga una massa di sconfitti, tutti coloro che perderanno la propria occupazione dopo lo smantellamento del sistema industriale e la digitalizzazione dei servizi. Il grande reset proposto a Davos non sembra quindi essere una risposta alla portata di tutti, ma appare come una soluzione imposta dall'alto, atta semplicemente a tutelare gli interessi di chi la propone. È curioso notare che la cosiddetta presunta pandemia di coronavirus con le sue draconiane politiche di lockdown, curiosamente facilita e favorisce questo grande reset, imponendo un drastico cambiamento nei processi del lavoro, permettendo l'avanzata del digitale e attraverso il blocco della mobilità indebolendo l'industria dei combustibili fossili. Insomma, ad uno sguardo meno distratto e più attento, il coronavirus appare come una curiosa coincidenza nella quale il caso potrebbe centrare molto poco. Sembra però esserci un altro scenario possibile, un altro tipo di reset dell'attuale sistema capitalista, non una soluzione moderata per rendere il capitalismo più green, eco-friendly e digital, mantenendo però intatte le ingiustizie sociali di fondo. Si tratterebbe invece di un reset che intende rivoluzionare il sistema economico e finanziario moderno, partendo dalla sua base principale, la moneta. Moneta che non dovrebbe essere più intesa come risorsa scarsa e a debito, ma come bene pubblico illimitato e messo a credito dalle banche centrali. Un cambio di paradigma totale che modificherebbe le gerarchie finora date per certe nel sistema che conosciamo. Non più l'uomo come pedina all'interno di un'economia dominante, ma l'economia al servizio dell'uomo. Secondo i rumors, questa rivoluzione potrebbe essere fatta solo attraverso il superamento del sistema SWIFT, il provider globale più sicuro dei servizi finanziari. Questo dovrebbe essere rimpiazzato da un nuovo sistema gestito da computer quantistici, fantascienza. Alcuni esperti sostengono che il progetto sia già in stadio avanzato e che la nuova moneta sarà agganciata alle riserve auree di ogni paese. E in quel caso chi si ritroverà con più soldi? La banca centrale dello Zimbabwe, un paese attualmente al 115esimo posto nella classifica mondiale per prodotto interno lordo. Insomma, una vera e propria rivoluzione copernicana. Sempre secondo alcuni esperti, questo reset sarebbe sponsorizzato dal presidente americano Donald Trump e le prossime elezioni americane sarebbero quindi uno spartiacque decisivo in questo senso. Un reset temperato per cambiare tutto, per non cambiare nulla, oppure una nuova rinascita finalmente definitiva? E sarebbe in corso una battaglia fra l'attuale establishment al potere da un lato e Trump e Putin dall'altro per il controllo appunto di questo grande reset economico mondiale. Lo sostiene lo scrittore Cosimo Massaro, sentiamolo. Stiamo vivendo realmente un periodo epocale di grossissimi cambiamenti storici. Dobbiamo tenere presente che siamo all'apice del decadimento di tutto un sistema imperialistico nato con la moneta debito, che ha la sua origine nella nascita della banca in Inghilterra, 1694. Oggi siamo arrivati al punto dove il debito non è più sostenibile. Tutti i popoli del mondo, tutte le nazioni del mondo sono ultra indebitati appunto con questo sistema bancario che ha schiavizzato tutti i popoli del mondo. Naturalmente a questo punto il sistema bancario, gli usurai, come li chiamo io nel mio libro usurocrazia svelata, hanno sempre adoperato dei sistemi per resettare l'economia. Dall'origine sono nati i giubilei addirittura all'epoca perché appunto si sapeva che un debito fatto con enormi interessi non poteva reggere, a un certo punto si doveva resettare. In seguito si sono utilizzati anche i meccanismi delle guerre per resettare l'economia mondiale. Ad esempio ora in questo periodo storico stiamo vivendo una reale guerra, una guerra planetaria. Naturalmente si sta combattendo con varie armi, soprattutto quella massa mediatica, quella della comunicazione. Ora dobbiamo capire e consapevolizzare che siamo davanti a uno scontro epocale tra varie potenze globali che si stanno vedendo contrapposte. Da una parte abbiamo i promotori e gli utilizzatori e gli inventori della moneta debito, questo deep state che è infiltrato in tutte le nazioni del mondo, dagli Stati Uniti d'America all'Europa, Italia compresa. Quindi da una parte abbiamo questo reset, però dall'altra parte abbiamo un altro reset che mi auguro e auspico che venga attuato e messo in piedi. Chi si è contrapposto a questo dominio globale è stato sicuramente Trump, insieme all'alleanza che vedo con l'asse Trump e Putin. hanno stabilito un nuovo sistema finanziario rappresentato da Gesara, Global Economic System and Recovery Act, il Quantum Financial System, c'è un nuovo sistema monetario che vorrebbe sostituire quello attuale che viene gestito appunto dal circuito SWIFT, dove questa nuova valuta dovrebbe circolare a livello planetario con dei sistemi di valuta gestiti da un computer quantistico che si trova addirittura in orbita nel pianeta attraverso dei satelliti. Questa nuova valuta che stanno mirando ad attuare è una moneta a differenza di quella che hanno sempre gestito i signori dell'usura, una moneta a debito, è una moneta in realtà a credito, anche se pur questa creata da nulla, però in realtà rappresenta tutto un bene che le nazioni possiedono, cioè tutti i beni che le nazioni possiedono, il PIL, il lavoro oppure l'oro di riferimento. Quindi una moneta non è messa più a debito ma bensì a credito che rappresenta appunto vera ricchezza.